bimbe siete pronte no come no dove andiamo adesso domani non vi dico dove andiamo perché non lo sape lui ok vediamo se se lo ricordano ok va bene allora adesso invece bimbe dove stiamo andando a fare ma aspettate cosa c'è questo shopping abbiamo deciso io e Anastasia che se non diamo il prezzo lo compriamo non è vero tu lo vuoi lo stesso ah va bene Vanessa ci sto così risparmio va bellissimo quindi faremo shopping solo se copinerete il prezzo anche oggi che c'è il bagnetto si stasera ti faccio un bel bagnetto perché domani andiamo a fare a Scienzaland avevi detto che non lo dicevi vabbè c'è anche la mia compagna bianca e il mio compagno di Gorda esatto allora ricapitolando parlando di oggi ma non di domani perché anche domani gireremo un video a Scienzaland è abbastanza presto insomma voi siete felicissime per domani invece io sono felicissima per oggi perché sicuramente oggi io risparmierò un sacco di soldi perché voi non indovinerete nessun prezzo e io non vi comprerò niente no dovete indovinare il prezzo che c'è sul cartellino del vestito o del pantalone o della magliettina di quello che vi piace vediamo quello che c'è no sai cosa ti volevo comprare se lo trovo se li trovo le ballerine le scarpine quelle che avevi messo quel giorno ma erano piccine col fiocchetto bianco adesso non le troveremo sicuramente uguali però simili quindi bambine vi dico solo prendiamo anche un pensierino per Isabella e Aria che arrivano lunedì sì ragazzi lunedì arrivano le mie nipotine dall'Inghilterra finalmente erano quasi due anni che non le vedevamo e siamo super felici sì filippo ma chi si dimentica di te no lamiotoli e il mio bambino filippo è il mio bambino è il mio cucciolo addirittura col salto tu la fai ma non farti male perché se ti strappi domani non andiamo da nessuna parte è bene bene piano benissimo poi la faccio anch'io e ci provo ok allora bimbe dai giubbottino che si va ah vi volevo dire solo una cosa potete sbagliare di 2 euro sì che oggi e domani si è vero però c'è tanto vento vero speriamo che non mi faccia venire la cervicale andiamo esatto così proprio così di vento amore siamo arrivati in centro tra poco arriviamo da zara sei pronta ciao amore hai una minima idea di quanto possono costare gli abiti provaci allora ok siamo arrivati amore adesso devi indovinare i prezzi e ci siamo ok che bello io hai già deciso che prezzo è me lo devi dire tu allora aspetta aspetta ferma chiudi gli occhietti vieni qua cos'è che ti piace cos'è che ti piace guardami la magliettina ti piace no qua quarta no la borsetta di paglia no quarta maglietta e guarda cosa c'è ci sono anche le ballerine allora aspetta che guardo aspetta che guardo quanto costa la maglietta e la maglietta costa vanessa ok ok vediamo quanto costano le scarpe tu non guardare quanto costano alzati quanto costano le scarpe 9 10 euro no amore mi dispiace costano 35 euro niente anni dobbiamo ritentare con altri abitini tocca a te scegli guarda cosa c'è che ti piace la maglietta questa ok girati quanto costa la maglietta di annastasia stava 10 euro quindi 10 brava 10 euro e 85 centesimi guarda bravissima è tua scegliamo la taglia però ti piace sei contenta questi belli questi a vita alta come i jeans che ha la tua amica però sono forti questi sono uguali forse cambia il modello quale preferisci guarda questo è più scuro questo è un po più chiaro ok ok puoi girarti 12 12 no è sbagliato 19 95 no mi dispiace dovrei scegliere qualcos'altro andiamo fa vedere ti piacciono queste scarpe belle guardo il prezzo non guardare quanto costano è un paio di scarpe vale 34 ok bravissima perché costano 35 95 quindi quasi 36 le devi provare va bene però le devi provare prima mi chiamo il numero davane dai scegli qualcos'altro amore credo che qua ah guarda questa maglia questa qua che bella ti piace ti piace allora spiamo il prezzo ok vai aspetta 9 euro bravissima 7 euro aspetta 7 e 95 è tua scegliamo la taglia sei contenta dalle a me dai brava 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 eh qual è la taglia? 9 anni no 8 scegli 8 tu vesti la tua taglia un cappellino in testa non è vero io non ho chiesto niente dai scegli anche tu qualcosa che tu sorella già ha indovinato due cose anzi tre vediamo bella giacchina bella perché mi non mi piace ti piace questa giaccina? va beh te l'ho appena regalata alla nonna vediamo che chiede bisogno prendere per il male vuoi gli occhiali? guarda questi verdi guarda non ti piacciono Ani le fasce a noi servono le fasce ma qua non ci sono vuoi gli occhiali non guardare allora ok aspetta quanto costano? 8 euro brava finalmente hai indovinato qualcosa prendili non li puoi mettere adesso dai dobbiamo prima pagarli voglio anche questo no i cerchietti no perché non li usi piuttosto se trovi una fascia si ho trovato una giacchetta con una maglietta piccola hai visto? è bellissima aspetta perché non so nemmeno io quanto costa guardate quanto sono pauri ok allora la maglietta 8 8 e basta? sei sicura? anzi no 9 9 9 9 9 dai aggiudicata 9 no costa 10,95 quindi quasi 11 adesso cerchiamo la taglia però guardate cosa so fare così così mamma mia che brava quindi tu non scegli più niente voglio bombolone non compri niente? non decidi non scegli niente? voglio bombolone hai fame? ti è venuta fame? vabbè allora niente guarda ma scusa ma guarda queste che belle con solo il castorino non ti piace? non voglio il taglio bucao l'hai visto? hai visto la maglietta di Among Us? sì ti piace? sì aspetta allora è la maglietta di Among Us e manca la tua taglia mi dispiace devi cercare qualcos'altro no questa è gigante per te bellissima ma gigante andiamo a vedere magari siamo nel reparto maglietta di Pikachu sì è molto carina allora aspetta che guardo il prezzo tu non guardare ok quanto costa? dieci hai guardato? no hai spiato? no bravissima allora 9,95 brava tu non vuoi comprare più niente? no vuoi andare da papà? non so dove è papà però e poi devi pagare il cappello allora finisco con Vanessa Vanessa vieni ultimo articolo per Vanessa girati vuoi questi pantaloni vero? io me lo non faccio vedere io dico aspetta vai hai l'ultima chance poi abbiamo finito brava hai guardato? anche te? 9,95 9,95 ok bravissima tu hai un cappello in testa? sì io ho fame voglio andare a mangiare il bombolone quello da crema il bombolone sì però ascolta stai ferma un attimo che guardo il prezzo perché tu ti sei appropriata di un cappello del quale non mi hai detto il prezzo quindi ora dimmi il prezzo e se te lo aggiudichi lo porti a casa va bene non guardare svirciona non guardare ok Anastasia 10 euro guarda te lo compro solo perché non hai un cappello altrimenti non te l'avrei mai comprato sei una spirciona bimbe siamo a casa? sì avete fatto merenda? c'è un vento micidiale sali ce la fai? riesci ad aprire la portiera? ciao ragazzi siamo a terra già a casa e abbiamo scelto i vestiti per domani si guardate me ok tu hai scelto la magliettina bianca tipo una felpina leggera bellissima e i pantaloni in pelle nera neri e le calze mentre va questa maglietta che mi piace un sacco guardate sì è molto bella c'è anche un gioco dove tu praticamente una maglietta bianca e la puoi fare con tutti i colori che vuoi io un giorno l'ho fatta così però ha dei colori in vero e questi pantaloni tuta bellissimi mi piacciono un sacco belli 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 guarda non prendo le calze ma questi rigannetti mi piacciono sotto sì e poi hai le scarpe nuove e te che sono giù però eh vero? guardate le scarpe nuove sono queste le sue casse 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 tu sei tutta pazza sei una pazza va bene bimbe dai adesso andiamo a farci un bel bagnetto vero? e poi Anna ancora devi mangiare e poi a nanna abbiamo già cenato che domani si va in gita e ci dobbiamo svegliare presto è una gita chiudi gli occhi adesso lo vado in gita ragazzi si faccia la magia aspetta un pochino indietro magia 3, 2, 1 vestita oppure così 3 3 2 1 questo è ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video ciao ciao Ciao, ciao, ciao.